Piazza Marcolini sarà il primo cantiere ad essere restituito nel 2024 alla città di Fano. Lo afferma l'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori, che commenta l'andamento delle operazioni di riqualificazione iniziate nel mese di giugno dello scorso anno in uno dei luoghi trascurati del centro storico. La ditta ha terminato i lavori nelle due vie laterali, continua l'assessore, ovvero via Polloni e via De Borgoggelli. Ora la squadra è all'opera sulla parte centrale del cantiere, dove nel giro di alcuni giorni sarà terminata la pavimentazione. Si procederà a terminare il lavoro sulla fontana, laddove la predisposizione sia luminosa che idraulica è stata fatta. Naturalmente sarà collegata tutto un allaccio alla stile, che dovrà essere montata in un tempo successivo, e montata una guaina nella parte del sottofondo e tutta una cordolatura nella parte alta della fontana, dove sotto verrà applicata della luce proprio per dare questo effetto sospeso della fontana. Successivamente alla posa della pavimentazione, quindi al completamento della posa, verrà portata tutta la terra all'interno delle aiuole che si sono create e verranno rimverdite con un trifoglio e delle margherite. Inoltre, ha aggiunto Brunori, gli arredi sono pronti per l'installazione, così come l'illuminazione a terra che farà splendere l'intera piazza. Il costo dell'operazione di 600 mila euro vedrà l'installazione, in un secondo momento, della fontana, che fino ad alcuni anni fa si trovava nei giardini di piazza Amiani. Un leggero ritardo lo abbiamo sull'illuminazione che appunto appartiene a Palazzo Marcolini, che è un'illuminazione radente con dei led particolari che solo a fine dicembre la ditta produttrice ci ha comunicato che non sarebbero arrivati. Quindi in corsa abbiamo dovuto provvedere ad un ordine di un apparecchio che avesse le stesse caratteristiche, proprio perché ricordiamo quello è un bene monumentale, c'è un parere della soprintendenza. Mi sento di dire che entro febbraio dovrebbe avvenire la riconsegna, ogni mese purtroppo mi trovo ad allungare un po' i tempi, ma non per una questione di lavori che si rallentano, ma per imprevisti che come in tutti i lavori succedono.